L'Associazione Nazionale Forum Ambientalista con il coordinamento NUAB del Gas e Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona hanno depositato ricorso al TAR del Lazio per chiedere l'annullamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata da Ministro della Transizione Ecologica Cingolani l'8 aprile scorso per la realizzazione della centrale di compressione che la SNAM vuole realizzare a Sulmona. Gli elementi messi in luce nel ricorso riguardano innanzitutto rischio sismico. Quanto affermato dalla valutazione di impatto ambientale nel 2011 dei più recenti documenti di SNAM depositati per l'AIA nel febbraio 2019, incredibilmente presi per buoni, nel parere dei tecnici del Ministero della Transizione Ecologica, vale zero, sostengono gli ambientalisti, davanti a uno studio che evidenziato quando il rischio sismico sia stato sottostimato rispetto alla documentazione depositata da SNAM, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto richiedere riavvio dello stesso fin dalla fase di deposito della documentazione. Ulteriori motivi del ricorso riguardano le emissioni di gas clima alterati superiori a quanto dichiarato ufficialmente e la mancata presa in considerazione del cosiddetto particolato secondario. Con il ricorso viene eccepita non solo la illogicità del rilascio dell'AIA senza attendere le risultanze del monitoraggio ante operam della qualità dell'aria, ma anche la stessa modalità della valutazione delle emissioni, considerata l'assenza di centraline meteo nella conca di Sulmona, senza tener conto delle specifiche condizioni morfologiche e microclimatiche della valle Pelinia. Contestata anche la mancanza di qualsivoglia valutazione degli effetti delle emissioni sulla fauna protetta presente nell'area della centrale, in primo luogo l'orso Bruno Marsicano.